Il Senato eletto dai cittadini è anche il Movimento 5 Stelle che teme un patto bis del Nazareno. Quando il Presidente del Consiglio parla di dialogo e in realtà sta dicendo tra le righe qua decido tutto io, per noi invece il Senato dovrebbe essere elettivo, quindi dovrebbe essere i cittadini a decidere chi sono i loro rappresentanti. E a settembre finalmente dovremmo parlare di lavoro e di reddito di cittadinanza per chi è disoccupato.